La penultima tappa del programma è quella con l'arrivo più duro, unico in salita, 155 km da Nizza ai 1.607 metri di Col de Turini Everest di questa edizione, il simbolo del rally di Monte Carlo, 15 km scarsi di ascesa al 7,3% medio ma frequenti tratti a doppia cifra. Il tempo record della salita pari merito per Quintana e Bernal nella tappa del 2019 vinse Dani Martinez e di 40 minuti e 36 secondi. Una fuga di 18 corridori caratterizza a lungo la giornata, tra questi c'è anche il nostro Fabio Felline, da segnalare che altri 7 corridori non hanno quest'oggi preso il via, continua a girare in gruppo questa forma virale bronchiale, ci saranno altri abbandoni al termine della tappa da 154 partenti al via della prima frazione, sono adesso soltanto 96 i corridori rimasti in gara. Al traguardo volante di La Bollenne Vesubi, 11 al traguardo, siamo sulle prime rampe di Col de Turini, sopravvivono in tre del Fugone dei 18, Bonamur, Pascher e soprattutto Bullberg, l'austriaco della Movistar che a lunga e resta solo al comando per qualche chilometro. Tra le sue spalle il gruppo dei forti ancora molto numeroso, ma va presto in difficoltà il miglior giovane sin qui, Jorgenson, lo statunitense della Movistar, perderà oltre 6 minuti e perderà anche il simbolo del primato tra i giovani. La lotta tra i forti comincia negli ultimi 7 chilometri con uno scatterello del britannico della Ineos, Adam Yates, che in classifica è sesto a 1 minuto e 11 secondi, Roglic controlla con tranquillità, sebbene non abbia a questo punto più compagni di squadra al suo fianco. Provano un po' a metterlo nel mezzo gli Ineos, ai 6 dal traguardo viene raggiunto Mulberger, comincia la corsa vera e comincia il forcing di Roglic. Prima fiammata dello sloveno risponde in maniera brillante Dani Martinez, arrancano invece gli altri, anche Simon Yates che sta cercando di riemergere e soprattutto il gemello Adam. Pian piano però da dietro riescono a ricucire il gap su Roglic e su Dani Martinez, mentre tra quelli che inseguono gli altri uomini di classifica anche Vlasov, ma le emozioni forti sono tutte qua davanti. Roglic e Martinez vengono negli ultimi 2 chilometri raggiunti da Simon Yates e da Quintana. Simon Yates che in classifica è secondo a 39 secondi da Roglic. Controlla lo sloveno, sta lì abbastanza passivo, sta lì in attesa o meglio sta lì in agguato. Siamo dentro l'ultimo chilometro, fa l'andatura Nairo Quintana, c'è stato grande marcamento tra i quattro, è riuscito ad avvicinarsi in pratica a rientrare anche Joao Almeida. Poi negli ultimi 200 metri la rasoiata micidiale da parte di Roglic che li lascia tutti al palo. Va a vincere lo sloveno, conquista dunque i 10 secondi di a buono e rafforza il primato in classifica generale. Col suo stesso tempo Dani Martinez è secondo, terzo posto per Simon Yates a due secondi, quarto posto per Quintana a nove. Ottima la prestazione con grande rimunta conclusiva da parte di Joao Almeida che balza in testa alla classifica dei giovani. Per Roglic prima vittoria in stagione, la quarta in carriera alla pariginizza, aveva vinto tre tappe nella scorsa edizione che stava dominando. Sappiamo prima di disfare tutto nella frazione conclusiva. Adesso in classifica Roglic ha chiaramente incrementato il margine. Affrontò nel 2021 l'ultima tappa con un vantaggio di 52 secondi sul secondo che era Schachmann e che poi si aggiudicò la corsa. Adesso ne ha 47 su Simon Yates, completa il podio Dani Martinez, a un minuto è sceso totalmente giù dal podio Latour che ha perso parecchio, adesso è ottavo. Ha quasi tre minuti. Sappiamo come è andata un anno fa quando Roglic buttò via tutto. Staremo a vedere adesso con la classica Nizza-Nizza, 115 chilometri, 5 ascese, oltre 30 chilometri di salita. Ce n'è per tutti i gusti, sarà una frazione come sempre pirotecnica e spettacolare. Grazie a tutti.